E' stato presentato questa mattina nella sala giunta del comune di Pordenone il mercato europeo, in programma l'8, il 9 e il 10 maggio a Pordenone. Più di 100 commercianti provenienti da tutta Europa proporranno le loro tipiche specialità, che vanno dagli alimentari ai dolciumi di vari paesi, dalle birre internazionali all'abbigliamento, giocattoli, ceramiche e molti altri prodotti. L'assessore comunale al commercio Bruno Zille. Per la terza edizione la città ospiterà il mercato europeo, questa volta sarà ubicato nell'area centrale, nel cuore della città, Piazza 20 Settembre, Via Mazzini. Saranno circa 110 operatori provenienti da tutte le nazioni, prevalentemente dall'Europa, ma poi saranno rappresentate anche le regioni italiane. E' un momento di festa per la città, è un momento di grande partecipazione. Abbiamo visto nelle passate edizioni quanta attrattività questo tipo di iniziativa il mercato europeo porta in città, per cui ci aspettiamo anche una ricaduta importante in questo momento, una boccata d'ossigeno per quanto riguarda l'economia locale, soprattutto per quanto riguarda l'area centrale, il commercio e quant'altro. Come no gastronomia siamo riusciti a portare sia il brasiliano, abbiamo l'argentino, una bancarella molto importante per noi, e poi soprattutto abbiamo comunque dall'Africa, dalla Thailandia, possiamo assaggiare molte cose particolari. Abbiamo birra belga, che è la migliore al mondo, abbiamo la birra cieca, abbiamo quella austriaca, tedesca, a livello di somministrazione. Ricordo che in questa occasione il mercato settimanale, quello del sabato, non ci sarà proprio per far spazio al mercato europeo.